Il ricordo di Marco Zitella, giocatore di basket scomparso nel 2011 ad appena 17 anni a causa di un incidente stradale e più vivo che mai. È dedicato alla memoria del cestista montesilvanese il torneo Zito 3x3 che si disputerà dal 21 al 23 luglio al Teatro del Mare a Montesilvano. Questo è l'ottavo campionato italiano federale dell'ottava disciplina diversa che realizziamo a Montesilvano nel 2023. Questa volta presentiamo la terza edizione del Zito 3x3 che è un torneo di street basket del circuito federale pallacanestro appunto. è giunta la terza edizione. Quest'anno si saranno come lo scorso anno intrattenimento musicale, ci saranno 17, ci sarà anche un'attività di solidarietà. Le squadre partecipanti saranno circa 50 di cui 16 top per un totale di oltre 250 atleti. L'associazione sul territorio che a livello logistico sta organizzando tutto è la Virtus Basket Montesilvano. Siamo molto soddisfatti perché è comunque un'attività a cui noi teniamo molto perché è un memoria tra le altre cose. Quindi oltre all'aspetto sportivo c'è anche l'aspetto del ricordo e della memoria perché è un piacere come amministrazione poter portare avanti con questa associazione l'evento per le ragioni che ci siamo appena detti. Quindi sport, solidarietà e memoria. Lo sport al centro ma anche un'occasione di festa. L'evento ha anche uno scopo solidale. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Ollus Ruralità e Solidarietà. Che porta aiuti in Etiopia. Sta costruendo scuole e stalle per animali in Etiopia. Già la parte dell'anno scorso è già stata realizzata. Quindi poi ce ne sarà un'altra parte che andrà anche... c'è stato un aiuto anche agli ospedale pediatrico. Per quanto riguarda la parte artistica quest'anno inizia una importantissima collaborazione con Eti Studio che si occuperanno da adesso stabilmente all'interno da questa tappa e anche per le prossime fanno parte della nostra organizzazione e si occuperanno della parte artistica, musica e quant'altro. Per cui non sarà più solo Street Basket che ormai siamo arrivati alla top tappa nazionale, 50 squadre, squadre che hanno già vinto il titolo e tutto, ma anche la musica quella importante. e per cui non sarà più importante.